Manovali, agricoltori, camerieri, impiegati nei supermercati, sono alcuni dei tanti esempi non solo di lavoratori in nero scoperti durante gli accessi ai cantiere, nei luoghi di lavoro da parte delle forze dell'ordine, ma anche per cettori del reddito di cittadinanza. Siracusa, Carlentina, Augusta, Pachino, Floridia, tra i comuni dove sono stati riscontrati casi più eclatanti, tutti finiti nel registro degli indagati della procura retusea. Si tratta per lo più di furbetti che pensavano a rotondare svolgendo lavoretti in nero anziché e quelli di pubblica utilità cui dovrebbero essere destinati. In tanti sono stati stanati in quest'anno e mezzo nella nostra provincia con casi limite, come quello scoperto dalla Guardia di Finanza nell'ottobre dello scorso anno, quando è stato arrestato un uomo di 41 anni di Floridia per detenzione di 120 grammi di cocaina, mentre a bordo di una Porsche Macan di sua proprietà era stato fermato per un controllo del cui risultava per cettori del reddito di cittadinanza. Operazioni che hanno impegnato in questi mesi anche i militari del nucleo ispettorato del lavoro, carabinieri e poliziotti che hanno fatto emergere anche casi di datori di lavoro e imprenditori che percepivano illegittimamente il reddito di cittadinanza. Per scovarli è stato necessario un lavoro che non si è limitato soltanto al rilevamento e alla presenza nei luoghi di lavoro, ma soprattutto attraverso un'opera certosina meticolosa di accertamento condotta attraverso gli ordinari accessi ispettivi vagliando la posizione anagrafica delle banche dati dell'Inps di quei lavoratori in nero che sono stati individuati ed estendendo poi i controlli a tutto il nucleo familiare convivente. Nessuna distinzione tra percettori siracusani e stranieri visto che il fenomeno dell'indebita percezione delle somme destinata al reddito di cittadinanza è piuttosto diffuso. Per fare fronte alla situazione è arrivato l'input anche al comando provinciale delle fiamme gialle di Siracusa di eseguire un'indagine a tappeto per verificare uno per uno la posizione di tutti i percettori del reddito di cittadinanza. Secondo le statistiche nella nostra provincia sono oltre 14.000, 4.000 nel capologo, i nuclei familiari che hanno ottenuto l'accesso al beneficio per ottenere il quale hanno dovuto dimostrare di possedere requisiti.